ma mi obbligo io con Salli Salli vorremmo un po' che sia vero stufato non ci siamo mai preparati come potete vedere dimmi cosa succede ma vorremmo cosa succede noi stiamo qua si pronte? Salli Salli sei qui Salli Salli sei qui Salli Salli sei qui forse si fa male a me non ci parlai e che si stava a cazzo a rispondere la roba Salli Salli sei qui Driespawn ci siamo divati oh beh io spiego Salli Salli sei qui Salli Salli sei qui non rispondo incendi tu Salli Salli sei qui con noi ma lo frate è un cazzo Salli 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 sei qui con tuo cazzo o no? ma è Salli Salli sei qui con tuo cazzo o no? ma è Salli Salli sei qui con tuo cazzo o no? ma è Salli sei qui con tuo cazzo o no?